Tre ragazze agrigentine accedono alla fase regionale del concorso di bellezza Miss Italia. Presso l'hotella Valle di San Cataldo si è svolta la seconda selezione di Miss Italia Sicilia Ovest. 24 le ragazze che si sono contese l'ingresso alle finali regionali. Alla fine soltanto 6 sono state quelle che hanno ricevuto la fascia che consente di proseguire il cammino e 3 sono della provincia di Agrigento. Si tratta di Denise Bennici, 23 anni di Ravanusa, Giorgia Pecoraro, 18 anni di Favara, Irene Brancato, 20 anni di Naro. Bennici è arrivata terza, Pecoraro quarta e Brancato sesta. Prima classificata una ragazza di Gela, Giorgia Del Rico, di 19 anni. A seguire Crizia Giamporcaro, palermitana di 19 anni. E alle regionali accede anche un'altra palermitana, Chiara Meschisi, di 18 anni, arrivata quinta. A condurre la serata è stato Angelo Palermo, affiancato da Miss Cinema Sicilia 2016, Ilenia Lomeo. A organizzare le selezioni, il gelese Mario Dovidio, che da quattro anni fa parte dello staff di Miss Italia. Quest'anno è il responsabile organizzativo del concorso per la Sicilia Ovest, cioè nei comuni in provincia di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Un riconoscimento importante per l'imprenditore gelese, direttore e fondatore dell'Accademia Dovidio Multiproject, che in questa missione accanto a sé la moglie, Veronica Caruso, psicologa e psicoterapeuta, intento dello staff di Miss Italia Sicilia Ovest e dell'Accademia Dovidio Multiproject, è quello di coinvolgere un numero più alto possibile di comuni dell'entroterra palermitano, Trapanese, Grigentino e Nisseno, dando più visibilità con video promozionali, valorizzando i loro prodotti tipici.